Il Frantoio Velle di Monterchi ha iniziato la propria attività l'anno scorso e già da quest'anno ha acquistato un po' di fiducia nella clientela della zona e ha come obiettivo quello di riuscire a trasformare, quindi lavorare l'oliva della zona e quindi dare un servizio che in parte mancava qui in quel di Monterchi. Cerchiamo di puntare molto sulla qualità e quindi abbiamo un impianto di dimensioni medio-piccole e questo per riuscire ad accontentare anche i piccoli produttori, non solo i grandi, insomma, i grandi coltivatori, i grandi olivicoltori. Lavoriamo a freddo e riusciamo a dare ad ogni olivicoltore il proprio olio. Abbiamo anche un nostro oliveto e quindi trasformiamo l'oliva anche per conto nostro e poi la rivendiamo al dettaglio.